Con la luce si vede meglio in diretta su Radiomondo Con la luce si vede meglio, un programma prodotto da Radiomondo Buongiorno amici di Radiomondo Rieti, 99.9 in FM, ricordiamo che siamo anche sulla pagina web www.radiomondo.fm sul canale 865 del Digitei Terrestre e sulla pagina Facebook di Radiomondo io sono Vincenzo e con la luce e questa è Con la luce si vede meglio accendiamo da questa luce su un giovanotto, un giovanotto che viene dal Molise ma che vive in Trentino si collega con noi al Trentino, è un grandissimo rapper e si chiama Vaga, ciao Enrico Vincenzo grazie mille per l'invito e un saluto a tutti i vostri ascoltatori di Radiomondo Ovviamente lui è collegato dallo studio di registrazione in quel di Rovereto, è vero, Rovereto di Trento Dalle montagne del Trentino Dalle montagne del Trentino Allora, senti, tu sei un giovanissimo rapper, sei anche un videomaker, uno che si fa i video per lui, per gli altri, ne fatti già diversi poi i nostri telespettatori potranno vedere i video che manderemo in onda perché ne manderemo ben tre in questo appuntamento mattutino con la luce si vede meglio Allora, senti Enrico, però una cosa, come nasce un rapper? Perché un ragazzo diventa rapper? Io, almeno nel mio caso, ho iniziato da giovanissimo a 13 anni e avevo questa esigenza di scrivere, di esternare i miei pensieri poi vivendo in una piccola realtà, in un piccolo paesino del Molise sentivo questa passione dentro che mi spingeva a raccontarmi, a raccontare anche il posto in cui vivevo e come dicevi tu, non solo rap, ma anche regie e videomaking proprio perché all'inizio, avendo poche possibilità, ho accomunato la mia passione con il rap a quella del video e ho iniziato a registrare tutto da solo e così, piano piano, con gli anni, video dopo video ho affinato le varie tecniche che mi hanno portato fino a qui anche se c'è ancora molto da migliorare, però piano piano si iniziano a vedere i frutti di anni e anni di passione e lavoro Tra l'altro, qualche tuo video è andato già in onda nelle puntate precedenti di questa trasmissione perché abbiamo avuto degli ospiti che hanno, come dire, usufruito dei suoi servigi, della sua bravura di essere videomaker e regista e quindi abbiamo avuto già, insomma, occasioni di vedere qualche tuo video ma adesso ne vedremo degli altri una cosa, io non so perché, ho sempre avuto questo dubbio secondo te un rapper è avvantaggiato perché può dire più cose rispetto a un cantante visto che rappando si possono dire più parole? Sicuramente il rap spinge a dire di più la realtà nuda e cruda com'è rispetto a quello che può essere il mondo del pop in cui magari c'è più una ricerca della melodia, più una ricerca dettagliata della parola mentre nel rap il pensiero che passa in mente viene messo giù sul foglio affinché nasca una rima e quindi è proprio uno spaccato della realtà, l'essenza del rap è proprio quella di raccontare i problemi della vita, le speranze della vita di ognuno di noi e di tutta la comunità quindi è più una sorta di cronaca della musica, diciamo Allora, ascoltami, io andrei, siccome abbiamo tre video, allora vorrei partire subito con il primo perché è una canzone che è stata secondo me molto importante, sia per il testo, vorrei che ne parlassimo un attimino anche perché ha avuto una bella eco, essendo stata trasmessa anche dal TG5 la canzone si intitola Desi e parla di un femminicidio e il video fa vedere alcune scene proprio di questa ragazza che si isola, quasi bullizzata dal resto della classe e poi si vedono due persone con la bottiglia e poi non si vede la fine la fine però è quella Si tratta una tematica che oggi è molto forte, che è quella del femminicidio ispirata ad una storia vera che è stata quella di Desiree Mariottini anche se può sembrare che... sembra quasi normale oggi guardando i TG sentire notizie di violenza sulle donne ma questo non è una cosa normale, infatti quando l'abbiamo scritta io e Ade in collaborazione con il nostro produttore Rossano Eleoteri eravamo proprio qui negli studi della Ross Group in Trentino e mentre eravamo intenti a registrare altri progetti è passata questa notizia al telegiornale che ci ha colpito molto e quindi è nata un po' questa idea magari di lanciare un messaggio affinché con la speranza di poter prevenire eventuali tragedie future anche se la musica non può risolvere tutti i problemi però la nostra speranza è stata proprio quella che una giovane ragazza ascoltando questo video potesse prevenire una sorta di problematica del genere un po' aprire gli occhi anche ai più giovani perché poi il rap è una musica seguita specialmente dai giovani e penso che sia importante dare a volte anche dei messaggi seri e più profondi anche se la musica a volte è anche un mezzo di stato io mi sono accorto che spesso molto spesso le canzoni di questo genere trasmettono dei messaggi molto molto importanti ecco la battuta sul fatto che il rapper può dire tante cose era proprio quella anche se poi qui c'è una parte cantata e la parte cantata viene fatta da una bravissima cantante svizzera che in svizzera so che sta andando fortissimo e si chiama Ade e che spero di avere ospite magari in una puntata successiva di Con la luce si vede meglio e la canzone è molto bella il video è molto bello io Enrico lo manderei in onda e allora Enrico Vaga la canzone si chiama Desi Desi non entrare in quella casa fai come ti dice la tua mamma non fumare e respirare quelle polveri sottili ti fa male e non esiste amico che regala giorni che ti annullano l'età Desi non andare dai ragazzi che ti prendono per gioco perché lì rimane il ruogo che alimenta quella sorte che il cammino lascia a terra violentata da un destino che nessuno fermerà Vorrei poter tornare indietro e perdermi ancora nel mio tempo Guardare ancora le cose che ti sfuggono quando sei troppo sola Desida sensibile ad orribile dissapoco l'eco di un sistema che ti schiaccia quella falcia a terra segna solo chi finisce nella merda solo chi conosce e scappa inevitabile certezza Desi non andare e non entrare in quella casa perché lì si vende morte non c'è tempo per pensare o rinnegare è un'esistenza che da sola vale più di ogni schifezza travestita di speranza Vorrei poter tornare indietro e perdermi ancora nel mio tempo Guardare ancora le cose che ti sfuggono Quando sei troppo sola Quanto costa crescere troppo in fretta è il conto della vita che tradita se ne va Lo so mi vedi Desi Lo so mi senti Desi Le persone sole si portano dentro pesi perché in fondo nessuno di noi sa cosa vuole ma per favore Desi credi ad un mondo migliore Vorrei ancora avere il tempo e dirti che ti voglio tanto bene perché non c'è mai tempo di poter parlare parlare e non morire Desi cerca solo di capire queste mie parole perché in fondo in tutte le ragazze esiste un'altra Desi e scusa se ti sembro fuori moda ma la meta è solo quella di sperare che nessuna Desi perda ancora la sua vita quella vita che distrugge a volte fugge dalle verità nascoste di una madre forse per l'ingiusto senso a dare per scontata quella tua purezza Desi, Enrico, Vaga bravissimo Enrico una canzone da brividi veramente complimenti grazie mille, grazie mille e poi vi lo ripetiamo un brano che è stato passato proprio per l'importanza del testo il messaggio che lanciava è stato passato anche dal Tg5 e quindi insomma una canzone che ha avuto sicuramente un grandissimo riscontro cosa hai percepito? che ne ha detto le persone che ti conoscono? il pubblico? che riscontri hai avuto? sì, l'emozione è stata in primis grandissima perché vedere il nostro messaggio passato su un emittente comunque nazionale che viene vista da milioni di persone è stata professionisticamente una soddisfazione ma ancora di più a livello umano ci siamo? ci siamo allora ancora un salutone a tutti gli amici di Radiomondo Rieti 99.9 in FM un saluto anche a chi ci sta seguendo dal web www.radiomondo.fm salutiamo anche gli amici collegati in visione di questa trasmissione con la luce si vede meglio e la state vedendo sul canale 865 del digitale terrestre oppure sulla pagina facebook di Radiomondo un saluto anche agli amici che seguono attraverso il giornale di informazione online Rieti in vetrina oggi con noi c'è questo giovane rapper Enrico Vaga a cui vorrei fare una bella domanda allora senti Enrico ascolta una cosa ma io recentemente ho sentito JX allora JX è cantante o rapper secondo te? o ne sono dei due? forse un po' entrambe le cose anche perché JX è stato uno dei pionieri del rap italiano con l'articolo 31 anche se negli ultimi tempi ha avuto più una svolta pop reggaeton nelle sue canzoni sì molto commerciale però gli sta dando ragione perché se vai in villaggi se vai in vacanza senti solo le sue canzoni quindi ha avuto ragione il rap è molto bravo poi secondo me anche molto intelligente nella ricerca dei tormentoni giusti delle patte giuste da usare perché riesce sempre a usare parole che hanno un po' tutto ascolta Enrico siccome ripeto abbiamo tre video e non vorrei rubare il tempo ai video però un'altra domanda te la voglio fare onestamente c'è qualche rapper americano statunitense o addirittura new yorkese perché se vuoi che in New York c'è molto movimento sotto il punto di vista del rap che ti ha influenzato nella tua proposta musicale? diciamo che il rapper americano che più mi ha ispirato specialmente quando ero più ragazzino è stato Eminem anche a livello di metrica ma specialmente di testi perché è proprio la rivalza delle persone che non hanno una speranza nella società e grazie alla musica riescono ad emergere a trovare un posto nel mondo quindi diciamo che quello mi ha ispirato molto e in Italia come si muove? secondo te come sta andando il rap italiano? ultimamente c'è stata più una deriva verso la trap che questo nuovo genere che è parallelo al rap e diciamo che ultimamente secondo me si è un po' perso anche il senso di quello che era il rap all'inizio ovvero quello di lanciare dei messaggi positivi e costruttivi e si stia un po' troppo pensando solo ad essere autoreferenziali e narcisisti noi nel nostro piccolo cerchiamo comunque di lanciare dei messaggi che per me quella è la cosa più importante raccontare la vera realtà e non un mondo virtuale fantasistico che poi nella realtà di tutti i giorni non esiste perfetto grazie Enrico per la tua sincerità per i tuoi suggerimenti allora il prossimo video lo voglio raccontare perché lo conosco molto bene anche perché ho vissuto un po' tutte le fasi anche della registrazione di questo brano tra l'altro è una cover legata a un brano inedito e quindi il brano inedito è composto sia dal rap che da una melodia mentre la canzone cover è strafamosa perché era una canzone penso degli anni 40 o degli anni 50 non vorrei sbagliarmi e si chiamava Un bacio a mezzanotte questa è nata da un connubio tra te e Chicco Fabri che vedremo nel video ed è avuto risultato secondo me strabiliante o mi sbaglio? Sì è stata una bellissima collaborazione penso che sia sempre bello unire il rap a altri mondi musicali poi abbiamo ripreso un brano storico del quartetto Cetra che è un bacio a mezzanotte che è meraviglioso e quindi l'abbiamo riproposto in questa nuova chiave rap estiva e ci ha fatto molto divertire nell'estate in cui l'abbiamo realizzato sia anche nel video che abbiamo girato in Sicilia su queste bellissime spiagge siciliane in Italia abbiamo dei posti meravigliosi che forse non sfruttiamo come dovremmo tra l'altro debbo dire che tutto nasce da un gioco un corteggiamento verso una ragazza uno propone una canzone antica e tu proponi una canzone nuova giustamente il bello che quando sei tu nel video il video è a colori quando c'è Chicco Fabri il video è in bianco e nero ora ti debbo dire che questo uso di bianco e nero è bellissimo e adesso i telespettatori vorranno avere occasione di vederlo tra l'altro nel video compare il nostro amico Rossano Eleuteri che suona il contrabbasso e quindi lo salutiamo e la presentiamo e dopo ne parliamo un attimino perché voglio voglio raccontare un piccolo anedd un aneddoto non mi venire il termine su questa canzone e allora se la regia è pronta scusa un bacio a mezzanotte Enrico Vaga e Chicco Fabri a voi la guardia è l'aria no no sì bellissima però Grazie a tutti. Ehi, oggi io mi sento proprio bene, lontano dalla gente e dalla mia città, adesso che noi due restiamo insieme, vorrei dimenticare la realtà, ma basta foto, guarda il mare, sempre in mano il cellulare, ti prego no, no non mi taggare, ti prego no, no non la postare. Non ti fidare di un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorar. Non ti fidare, c'è stelle galeate, che in vita tua volenza amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar, fantastica. Mezzanotte qui c'è un altro gusto, specialmente se restiamo dentro questo impasto, perché tu, l'unico peccato giusto, e devo regalarti tutte le attenzioni e le emozioni, ma troppi selfie, lascia il cellulare, basta con ste foto da taggare, ti prego no, no non la postare, non localizzare. Non ti fidare di un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Oggi io mi sento proprio bene, non ti fidare, c'è stelle galeate, che in vita tua volenza amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar, fantastica. Scusa sotto questa luna voglio farlo ancora, la mezzanotte piano piano vola, e vola anche la voglia che prescinde da un chissà, un bacio che ti sfiora dolcemente, oggi io mi sento proprio bene. Non ti fidare di un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché 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 la luna non ti fidare, ma oggi come ti senti? oggi dai diciamo bene nonostante il periodo storico che stiamo vivendo quando abbiamo registrato dovevi rispondere oggi io mi sento proprio bene allora devo raccontare un aneddoto questa canzone è stata presentata più o meno un anno e mezzo fa a Canal Italia nessuno si aspettava questa cosa e quando hanno sentito questa versione io ero dietro le quinte ho visto il pubblico ho visto insomma anche qualche editore che ha sbarato gli occhi insomma ha detto che si sono inventati questi non so se ti hai percepito ma anche il movimento che tu entravi che cosciva poi era un interscambio di cose insomma avete anche fatto impazzire Canal Italia tra l'altro diciamo che è stato un po' un progetto insolito inaspettato per molti anche perché è un po' un ossimoro sono due mondi che all'apparenza sono completamente opposti e noi abbiamo deciso di unirli ed è uscita una cosa è uscito un bel risultato io volevo dire che questi brani vanno in scaletta anche su Radiomondo quindi amici di Radiomondo ricordate questo che stiamo ascoltando perché quando li incontrerete nella scaletta giornalista di Radiomondo diciamo ah ma quella l'ho sentita che durante il programma di Vincenzo Coraluce con Enrico Vaga eh va bene a proposito ma Vaga Reale che è venuto sul monitor che cos'è? Vaga Reale è il mio nome sui social infatti invito tutti gli amici di Radiomondo a seguirmi sui vari social e il Vaga è il mio nome da rapper si usa solitamente un nickname un nome diverso da quello reale nel mondo del rap il mio è Vaga che si ispira a Io Vagabondo la canzone Denoma ah ecco ora ho capito io penso che qui a Radiomondo quando ero giovane 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 anche io avevo un nickname ma non me l'avevo scelto solo me l'aveva dato il direttore mi chiamava l'avvocato io non ho mai capito perché io ero l'avvocato quindi era il mio però io non sono mai stato rapper assolutamente però ero l'avvocato senti allora abbiamo ascoltato una canzone che parla di femminicidio un messaggio molto forte una canzone che ha riportato diciamo in una versione in una veste nuova è uno storico brano del quartetto Cetra con l'aggiunta di un vostro inedito adesso abbiamo una canzone che invece parla di amore cioè parla di una delusione d'amore forse si il titolo di questo brano è dove cavolo sei non lo ripetiamo no no il titolo di questo brano è dove cazzo sei io lo posso dire perché sono il conduttore il bravo conduttore come diceva Nino Frassica è in dirlo tutto e quindi dove sei possiamo fare così però lo dobbiamo sentire perché dietro questo titolo che potrebbe sembrare così giocherellone invece si nasconde una delusione d'amore una telefonata mancata che cosa è successo Enrico? diciamo che per rendere questo concetto c'era bisogno proprio di quella parola che non ripeteremo è un po' un grido di aiuto un po' un grido di aiuto una mancanza di amore legata specialmente alla distanza proprio fisica che a volte può nascere fra le persone magari per motivi di lavoro di lontananza e quindi è un messaggio di amore verso una ragazza che non può essere raggiunta in quel preciso momento e quindi è un po' un grido disperato d'aiuto mettiamolo così e allora sentiamo questo grido disperato d'aiuto nella canzone dove cazzo sei dove anzi facciamo così dove erz sei con Enrico Vaga in diretta su Radiomondo a con la luce si vede meglio a voi quante volte immerso nelle mie domande dopo la canzone mi lasci tempo con il tuo profilo vivo di questa identità nascosta mentre faccio i conti col mio gesto compulsivo e cerco di pensare a come tu vorresti un uomo sulla pelle fino a farne un unico esemplare ma dimmi come ti posso realizzare in un concetto quando sento che t'ho persa ancora prima di arrivare dove cazzo sei adesso che ti vorrei adesso che sembra tutto così eterno inverno dove cazzo sei oppure dove sarai domani che cado e forse incatenato in fiamme quante volte solo nelle mie domande troverò risposte ad aspettarmi ancora provo da questa voglia mia nascosta di cercare quel tuo viso mentre la mia mano vola e cerco ancora di pensare a come tu vorresti un uomo sulla pelle fino a farne un unico esemplare ma dimmi come ti posso realizzare in un concetto quando sento che t'ho persa ancora prima di arrivare ecco che vorrei lasciarmi indietro totalmente l'orgoglio ma non ce la faccio e col pensiero piano piano ti spoglio dove cazzo sei adesso che ti vorrei adesso che sembra tutto così eterno inverno dove cazzo sei oppure dove sarai domani che cado e forse incatenato in fiamme dove cazzo sei magari ti parlerei di quanto ho bisogno di descriverti mio amore dove cazzo sei adesso che ti vorrei adesso mi sembra tutto così chiaro e vivo vaga ma poi l'hai trovata dove stava questa alla fine no finisce a cercare ancora io intanto ti ringrazio per essere stato con noi in questo appuntamento mattutino con con la luce si vede meglio abbiamo acceso i riflettori su questo giovane rapper abbiamo sentito ben tre video e quindi niente ti ringraziamo ti lasciamo il tempo per il messaggio di saluto agli amici di Radio Mondorieti a te vaga grazie mille a te Vincenzo e grazie mille a tutta Radio Mondo per l'invito volevo augurare una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Mondo sperando che la vita possa realizzare tutti i sogni dei vostri ascoltatori e speriamo che la vita realizzi anche i sogni tuoi vaga ok abbracciaci abbracciaci l'amico che tu sai assolutamente e allora appuntamento con i radioascoltatori e i telespettatori di Radio Mondorieti per Con la luce si vede meglio a giovedì prossimo ciao vaga grazie e a voi a giovedì Con la luce si vede meglio in diretta su Radio Mondo con la luce si vede meglio con la luce si vede meglio in diretta su Radio Mondo con la luce si vede meglio Con la luce si vede meglio un programma prodotto da Radio Mondo ho 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 con la luce con la luce